De Chirico de Pisis, la mente altrove, il titolo della mostra che a Palazzo San Francesco verrà inaugurata sabato nell'ambito di una grande notte bianca della cultura a Domodossola. L'esposizione conta una quarantina di opere e è curata da Antonio D'Amico, resterà allestita fino al 31 di ottobre, anteprima per la stampa. Si incontrano per la prima volta Nature Morte, ritratti di De Chirico e De Pisis con un dialogo stringente con le opere di Nature Morte del 600 napoletano. I Ruopolo, I Recco diventano motivo di suggestione per quel pittore che è De Chirico e per quell'altro pittore che è De Pisis che insieme si aggirano nelle sale del Louvre, si aggireranno nelle sale dei musei romani e non soltanto, anche a Ferrara, per lasciarsi suggestionare da quelli che sono non soltanto le opere dei pittori del 600, ma anche e soprattutto la tecnica con i quali questi artisti hanno realizzato le loro opere. La metafisica di De Chirico e De Pisis è questo sguardo sul reale ma con la mente altrove, col desiderio di scoprire l'ignoto, di scovare quell'eterno presente che è il tempo. L'immagine e prototipo di questa mostra è questa piazza d'Italia che De Chirico realizza nel 1951, dove abbiamo tutta la poetica della sua arte, il muro che separa l'ignoto da ciò che è a noi caro, da ciò che conosciamo, da ciò che ci avvolge nella nostra quotidianità. E nel corso dell'allestimento della mostra domese una straordinaria scoperta sul retro dell'opera, una natura silente, quadro mai esposto, sottoposto dal curatore a Condition Report. Sul retro di questa tela abbiamo esattamente trovato un autoritratto di De Chirico e soprattutto nell'altra metà della tela rimasta bianca, De Chirico ha inserito, capovolgendo la tela, il modus con cui lui ha preparato la tela. Attraverso la lettura di questa procedura di lavorazione della tela ci siamo resi conto che questa tela, così come molte altre che De Chirico ha realizzate, le ha fatte secondo l'uso del Seicento, secondo l'uso che era proprio per esempio di Rubens, e cioè farlo con colla di coniglio, con colla veneziana e poi mettere al sole ad asciugare questa tela. E per capire effettivamente la reazione che questa tela ha fatto, lui che cosa ha fatto? Si è divertito a realizzare da una parte la natura silente e dall'altra parte questo bellissimo autoritratto.